ben ritrovati amici amiche di spunti di riflessione bentornato e grazie come sempre giacomo gabellini ciao ciao grazie per l'invito buonasera a tutti grazie a te per essere con noi ricordo giacomo è un analista di geopolitica e autore di vari gruppi uno dei quali il diciamo il focus della nostra conversazione di oggi vi ricordo naturalmente anche tutti i suoi canali social su youtube su odissee su rumble e anche da poco è creato un vero e proprio sito web che si chiama proprio come gli altri canali cioè il contesto precisamente l'indirizzo è il contesto punto net giusto esatto esatto se il contesto punto punto net potete scrivervi su quel sito che ho approntato da poco da non molto insomma sì anche perché purtroppo diciamo viviamo un'epoca in cui come dire bisogna essere estremamente cauti perché sappiamo che sa io ne ho parlato diverse volte anche su questo canale di tutta una serie di problematiche ecco la prossima settimana ci sarà un appuntamento credo che sarà estremamente importante mi riferisco al vertice di brics di kazan che il calendario dal 22 al 24 di ottobre e tra i vari argomenti di cui si parlerà c'è anche la questione legata alla moneta e qui ci riallacciamo naturalmente a questo libro adesso se riesco lo mostro anche a chi ci ascolta è un libro che ha circa un anno di vita editorialmente parlando ma che di un'attualità incredibile eccolo qua edito da di arcos ricordo dedolarizzazione il declino della supremazia monetaria americana ricordo che il libro è edito da di arcos naturalmente lo potrete ripetere attraverso tutti i vari store ordinare nelle librerie tra l'altro c'è anche la per chi preferisce c'è anche la versione digitale e ricordo anche il libro è arricchito dalla prefazione dell'economista jacques sapire e l'introduzione di flavio piero cuniberto io leggo soltanto alcuni passaggi dalla quarta di copertina per inquadrare un attimino il discorso perché secondo me è molto molto eloquente anche quello che l'argomento trattato per decenni la centralità degli scambi internazionali rivestita dal dollaro ha assicurato agli stati uniti l'egemonia sull'economia globale con la possibilità di accumulare sistematicamente deficit senza alcuna conseguenza e di scaricare i propri equilibri interni sul resto del mondo un esorbitante privilegio che tuttavia vediamo oggi vacillare sempre più vistosamente sotto i contraccolpi innescati dalla guerra in ucraina e per iniziativa delle nuove potenze emergenti come la Cina e per l'appunto i brics ecco io partirei proprio da questo perché si era parlato anche addirittura della nascita di una nuova valuta dei brics anche se questo argomento vede un po' diciamo dei dissidi interni promette allo stesso allo stesso club però intanto che un processo di dedolarizzazione si stia diciamo progressivamente facendo strada credo che sia in dubbio altrimenti forse non ci sarebbero neanche tutte queste preoccupazioni ecco io ti chiederei in prima battuta siccome molti di coloro che ci ascoltano hanno detto che siano come dire cultori della materia di soprattutto in questo caso di storia dell'economia cioè che cosa ha significato nell'economia mondiale la supremazia della valuta statunitense perché probabilmente se spugge a questo passaggio poi tutto il resto ho paura che possa non essere del tutto chiaro ecco beh anzitutto grazie dell'invito beh piacere averti qui il dollaro ha un ruolo fondamentale perché già dal 1944 in realtà la guerra seconda guerra mondiale ancora in corso in base agli accordi di Bretton Woods si stabilì che il dollaro sarebbe stato sostanzialmente tanto buono quanto l'oro in quanto si stabilì una parità tra dollaro e oro 35 dollari per uncia quindi rapporti fissi tra dollaro e oro e rapporti fissi di cambio fissi tra il dollaro e tutte le altre monete aderenti al sistema di Bretton Woods che sarebbero quindi c'è questo equilibrio questa questa base fu la piattaforma attraverso cui si ricostruì l'economia mondiale dopo la seconda guerra mondiale questo in soldoni cosa significava significava che per un paese sprovvisto per esempio di materie prime di petrolio che era la chiave per l'industrializzazione e occorreva quindi avere approvvigionamenti di questa di questa fondamentale fondamentale materia prima al pari di tutte le altre gas alluminio eccetera e il modo per per approvvigionarsene era dotarsi di dollari ma come fare per dotarsi di dollari occorre esportare negli stati uniti e ottenere in cambio dollari per l'appunto che poi vengono utilizzati per acquistare materie prime di cui ci si serve per implementare la propria capacità industriale la cifra del piano marshal era proprio questa rifornire l'europa e il suo e il giappone dei dollari necessari per la ricostruzione e mettere e avviare processi di reindustrializzazione di territori che erano stati devastati dalla guerra in realtà tutto questo sistema cioè questo semplice ma in realtà determinante meccanismo ha connesso i paesi produttori i paesi consumatori in un circuito diciamo tenuto insieme dal vincolo del dollaro dell'accesso al dollaro e che quindi conferiva agli stati uniti una potere enorme perché naturalmente erano le loro monete al centro del sistema internazionale tutti dovevano fare riferimento al dollaro e quindi agli stati uniti per potersi mettere economicamente in piedi questo ha provocato già in seno all'innuce all'interno degli accordi bretto bull c'era una contraddizione perché perché quando tu sostieni che il dollaro al centro del commercio internazionale occorre che perché l'economia mondiale funzioni ci sia una sovrabbondanza di dollari questo comporta un deficit di bilancia dei pagamenti statunitensi quindi l'adempimento degli impegni che gli stati uniti hanno assunto ai sensi degli accordi di bretton woods era in contraddizione con gli obiettivi di finanza domestica perché una bilancia dei pagamenti positiva invece è un obiettivo che qualsiasi paese deve raggiungere e però come conciliare questi due aspetti questo è stato il problema che già nel 1959 aveva sollevato un economista belga che si chiama robert riffin il dilemma di riffin cioè dice o gli stati uniti fanno cioè lavorano per migliorare la propria situazione economica e quindi hanno una bilancia dei pagamenti positiva ma questo provoca una penuria di dollari nel resto del mondo e si traduce quindi in deindustrializzazione recessione eccetera viceversa se tengono fede i loro impegni che hanno assunto bretton woods devono farsi carico delle importazioni massicce dal resto del mondo e quindi riempire il mondo dei dollari e riempendo il mondo dei dollari però vanno incontro a un deficit di bilancia dei pagamenti e questo ne va va a detrimento della loro posizione finanziaria con l'estero fondamentalmente e in effetti e le cose andarono così gli stati uniti negli anni 50 erano l'unica l'unica superpotenza al mondo ma grazie al piano marshall i paesi che avevano ricostruito si posero molto rapidamente che avevano vecchia tradizione per esempio imperialiste avevano strutture produttive si pensi alla germania in secondo piano al giappone ma soprattutto la germania ma anche la stessa francia delle delle industrie che erano in grado di competere efficacemente e la ricostruzione post bellica con i soldi statunitensi con i finanziamenti statunitensi ai sensi del piano marshall pose rapidamente questi paesi nelle condizioni di concorrere molto efficacemente con gli stati uniti i quali poi andarono infilarsi in una serie di iniziative di politica estera come la guerra del Vietnam che avevano degli effetti devastanti sui loro conti con l'estero perché un economista come Michael Hudson ha stimato che il consumo di rame dell'esercito statunitense con cui erano fatti per esempio i proiettili era talmente elevato che ogni singolo soldato consumava l'equivalente di una tonnellata di rame questo provoca degli squilibri quindi delle importazioni massicce dall'estero e che cosa che mette la bilancia commerciale degli Stati Uniti in passivo è andata in passivo da quel periodo e non c'è più sostanzialmente tornata in attivo se non per pochi periodi pochissimi periodi ma in un sistema rigido come quello di Bretton Woods quando tu entri in una posizione deficitaria questo comporta una fuoriuscita di oro in genere e soprattutto comporta che per l'appunto se tu hai la capacità di emettere una quantità di dollari commisurata alle tue riserve aure c'è il rischio che tu ne abusi perché nessuno viene a vedere quante riserve aure tu abbia in realtà e se queste riserve che tu abbia siano commisurate alla quantità di dollari che tu hai emesso coloro che tra i primi cominciarono a dubitarne furono i francesi che sotto Charles de Gaulle e il suo consigliere economico Jacques Reuf cominciarono a inviare cariche navi di dollari per chiedere la conversione in oro e questo fu un episodio clamoroso che spinse altri paesi come il Giappone per esempio a fare altrettanto finché gli Stati Uniti sotto Nixon nell'agosto del 71 dichiarano unilateralmente il ripuglio dei accordi di Bretton Woods e quindi la non convertibilità dei dollari in oro per i non residenti e quindi che ne era del dollaro a quel punto cioè se il dollaro era garantito dall'oro perché quindi aveva un controvalore concreto che ne era della moneta statunitense sarebbe diventata una moneta fiat una moneta al pari di qualsiasi altra merce del cui quotazione sarebbe stata determinata dal rapporto tra domande e offerte quindi sarebbe stato il mercato cioè la volontà, la credibilità degli Stati Uniti della loro moneta a darne la cifra, la quotazione, l'importanza, la caratura internazionale sì, questo è quello che c'è scritto nei libri diciamo non esattamente aderenti alla storia per come si è svolta perché per esempio già nel 74 Nixon invia il suo segretario al tesoro in Arabia Saudita per ingiungere all'Arabia Saudita una revisione di un accordo che risaliva al 45 che era stato siglato da Roosevelt e Ibn al Saud che sostanzialmente ancorava il dollaro al petrolio saudita e adesso chiesero un rinnovo di quell'accordo con alcune modifiche voi sauditi dovete impegnarvi assolutamente a mettere da parte qualsiasi considerazione che state facendo circa la possibilità di commercializzare il vostro petrolio in valuta alternativa al dollaro dovete commercializzare il vostro petrolio solo ed esclusivamente in dollari e riciclare parte considerevole dei introichi derivanti da queste esportazioni nell'acquisto di sistemi d'arma statunitensi e di titoli di Stato statunitensi quindi investire nel debito statunitense quindi cosa succede? che i sauditi o tortocollo rinnovano questo accordo i sauditi non è che sono un paese come gli altri erano a testa dell'OPEC quindi paesi produttori di petrolio che si accodarono immediatamente alla scelta dell'Arabia Saudita e lo fecero nel 74 cioè un anno dopo la guerra dello Yom Kippur la guerra dello Yom Kippur che aveva visto l'Egitto e la Siria contro Israele e che aveva visto Israele vacillare in una prima fase anche perché il sostegno occidentale a Israele era stato provvisoriamente bloccato dall'intervento dell'OPEC che aveva minacciato tutti i paesi europei e occidentali che avessero deciso di sostenere Israele di bloccare i rifornimenti di petrolio questo provocò un aumento enorme del prezzo del petrolio che a sua volta che essendo ancora il petrolio indicizzato in dollari essendo la valuta di riferimento per l'acquisto del petrolio e il dollaro provocò un incremento commisurato della domanda internazionale di dollari ricordiamo che il dollaro subito dopo lo sganciamento dall'oro al ripudio dell'accordo di Bretton Woods si era deprezzato del 40% circa perché a quel punto cos'è che sosteneva la fiducia nel dollaro? cioè Nixon non si era consultato con nessuno prima di assumere quella decisione il dollaro viene improvvisamente privato del suo sottostante quindi il dollaro diventa un pezzo di carta non ha un controvalore e in realtà c'è la potenza militare degli Stati Uniti che lo garantisce che è la cosa probabilmente che conta più di tutti ed è esattamente quello che accade con la guerra dell'Un Kipur aumenta enormemente il prezzo del petrolio e aumenta proporzionalmente la domanda internazionale di dollari e per di più succede che il mercato dei titoli di Stato statunitense diventa la principale riserva di valore al mondo cioè investire nel debito pubblico statunitense per i paesi produttori di energia quelli che hanno grossi avanzi commerciali è il modo migliore per conservare i propri investimenti perché è sicuro, perché è garantito perché diciamo fa perno per l'appunto sulla valuta che è globalmente accettata come valuta di scambio e di riferimento per il commercio internazionale quindi la quadratura del cerchio a quel punto veramente gli Stati Uniti possono acquistare merci, produzione reale, manufatti, batterie prime in giro per il mondo fornendo in cambio biglietti che non richiedono alcuno sforzo per essere messi perché a quel punto non c'era più neanche il vincolo dell'oro se non che questo provoca dei danni giganteschi per i paesi in via di sviluppo che si riforniscono per l'appunto di dollari perché in quel periodo abbassano i tassi di interesse e la Federal Reserve e questo favorisce l'inondazione di dollari in giro per il mondo poi sul finire degli anni 70 quando gli Stati Uniti cominciano ad accusare dei problemi interni, l'inflazione perché chiaramente con questo processo lì per lì dà dei frutti notevoli cioè tu puoi comprare produzione reale senza lavorare sostanzialmente minacciando il resto del mondo di conseguenze però apre la via la deindustrializzazione perché come dicevo già le aziende statunitense erano in difficoltà nel concorrere con i competitori europei e giapponesi soprattutto e quindi questo aveva aperto una serie di problematiche c'erano delle aziende che chiudevano e soprattutto c'era una pressione da parte delle grandi aziende statunitensi che avevano cominciato a coordinarsi tra di loro in gruppi come la commissione trilaterale il builder back group eccetera cioè fare pressione sul governo affinché riconfigurasse un po' la situazione economica mondiale perché gli Stati Uniti stavano deteriorandosi da un punto di vista di posizione internazionale e di rilevanza economica e quindi cosa succede? succede che nel 79 la Federal Reserve alza il tassi di interesse al 20% 19-20% questo cosa fa? richiama improvvisamente tutti i capitali dal resto del mondo che erano defluiti nel corso degli anni precedenti mettendo in ginocchio tutti i paesi in via di sviluppo che si erano riforniti di dollari avevano preso in prestito dollari per potersi sviluppare e quindi si ritrovano improvvisamente con una penura di dollari che ha effetti devastanti sulle loro economie gli Stati Uniti richiamano tutti questi capitali in patria e cosa ne fanno? provovano un piano colossale di investimenti che è quello che è portato avanti da Reagan cioè l'idea di portare avanti attraverso il volano della spesa militare la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo quindi cosa si decide di fare? si decide di sacrificare l'idea è questa noi abbiamo la possibilità di mantenere il controllo sul sistema mantenendo il presidio solo su alcuni punti nevralgici e sacrificando tutto il resto quindi per esempio l'industria automobilistica non è strategica è un tipo di produzione matura che può essere tranquillamente delegata al resto del mondo quindi apriamo le porte per le delocalizzazioni produttive della General Motors che comincia a spostare General Motors, Ford, Chrysler che decidono di spostare i loro impianti in Messico, in Sud America e soprattutto in Asia dove ci sono serbatoi inesauribili di manodopera a basso costo che rendono particolarmente vantaggioso produrre in quei luoghi noi dobbiamo soltanto invece mantenere il presidio sui comparti ad alto e ad altissimo valore aggiunto che furono identificati sostanzialmente nell'alta tecnologia e nella finanza che poi sono le due coste degli Stati Uniti la West Coast, sede della Silicon Valley la East Coast, sede di Wall Street che se si guarda poi la ricchezza da quel momento in poi comincia a segregarsi proprio nelle coste mentre il paese, la parte centrale del paese che viveva di agricoltura e di tecnologie di produzioni tradizionali come quella automobilistica deperisce quindi c'è ancora la casa è la parte che vota trap quella esattamente c'è una varicazione proprio anche geografica di questa ricchezza se non che con tutti questi capitali liberalizzazione dei mercati il richiamo dei capitali che vengono drenati attraverso la spesa militare vengono investiti attraverso diciamo agenzie pubbliche che comportano una distribuzione di questi capitali alle aziende che vengono ritenute maggiormente produttive la spesa militare viene poi convertita in molto spesso si traduce in innovazioni che nascono come per l'appunto a confini bellici si pensi a internet nasce come ARPANET ma poi vengono convertite a scopo civile e fu quello un po' il rilancio economico degli Stati Uniti quindi alta finanza e alta tecnologia furono quelli i due perni e per il resto si trasferisce tutto all'estero tutti gli impianti quindi la manifattura tradizionale si sposta all'estero soprattutto in Cina che nel 71 era stata integrata nell'economia a guida statunitense per effetto dell'incontro tra Kissinger e Mao Zedong con Nixon anche cosa succede? succede che la Cina si rende disponibile a mettere cioè a fornire la propria sterminata diciamo riserva di mano d'opera a basso costo militarmente inquadrata semischiavile al servizio delle grandi aziende statunitense che cominciano a delocalizzare in massa intravedendo i grossissimi vantaggi che ne avrebbero conseguito l'idea era sì delocalizzata in Cina ma la Cina fra 30 anni continuerà ad occuparsi delle produzioni passe di base oppure a limite medie perché noi continueremo invece a mantenere la progettualità le capacità ingegneristiche all'interno del territorio statunitense e questo manterrà invariato se non addirittura amplierà il divario di potenza tra noi e il resto del mondo questo era un po' il disegno questo però cosa succede? succede che le cose vanno diversamente la Cina si integra sì alle proprie condizioni però nel mercato quindi dice sì voi trasferite beneficiate del lavoro schiavile quanto volete però dovete fare una cosa e quando venite qui dovete aprire le vostre delle joint venture con aziende locali e questo comporta il trasferimento di tecnologie e di capacità produttive alla mano d'opera locale e quindi la Cina si impette in una traiettoria di sviluppo straordinaria che nell'arco di pochi anni relativamente pochi decenni pensiamo si è messa nelle condizioni di competere efficacemente con gli Stati Uniti anche nei settori ad altissimo valore aggiunto quindi questo calcolo per cui noi integriamo la Cina perché l'apertura alla Cina quindi l'integrazione della Cina nel sistema guida capitalistica comporterà poi un'occidentalizzazione della Cina si trasformeranno in americani con gli occhi a mandorla questo era un po' il disegno invece i cinesi sono rimasti cinesi diciamo che hanno sbagliato i conti visto che siamo parlando di monete hanno quindi beneficiato dell'integrazione nel sistema l'hanno volto a proprio vantaggio e questo ha scardinato tutti i presupposti su cui gli Stati Uniti hanno basato i propri calcoli perché per esempio nel 2018 il Pentagono emana un report che dice noi abbiamo i sistemi d'arma statunitensi che si compongono per alcune componenti critiche dal 40 al 80% di importazioni cinesi quindi noi per un verso identifichiamo la Cina come nostro rivale strategico e per l'altro basiamo la nostra sicurezza nazionale sulle importazioni di materiali critici dalla Cina c'è una contraddizione abbastanza evidente e come fare a riportare la situazione a nostro vantaggio Trump ci ha provato con dazzi sanzioni tentativo di attraverso varie una campagna di detassazione una riforma fiscale che ha fatto della detassazione il suo cavallo di battaglia che mirava a convincere le aziende statunitensi che avevano delocalizzato in Cina a tornare in patria quantomeno quelle che provano in settori un po' più importanti pensiamo alla Apple e però queste aziende non hanno risposto picche perché la Cina è una struttura demografica dei costi che è irriproducibile all'estero anche perché dopo il 2008 dopo la grande crisi il crack di Lehman Brothers la Cina ha investito pesantemente in infrastrutture quindi si è dotata ad una rete infrastrutturale porti aeroporti ferrovie autostrade che è assolutamente l'avanguardia e questo rende il paese il sistema paese particolarmente competitivo rispetto a tutto il resto del mondo quindi non c'è la capacità degli Stati Uniti di riportare le proprie aziende in patria ma anche se ci riuscissero comunque ormai molto know-how a diciamo appannaggio totale della Cina quindi anche non è che se l'Apple torna negli Stati Uniti i cinesi si trovano in bracche calate perché non sono più in grado di produrre telefoni elettronica d'avanguardia lo fanno hanno imparato a farlo da sì lo dimostra per esempio l'avanzata sui mercati mondiali di giganti come Huawei Xiaomi eccetera Oppo sono tante le aziende cinesi anche nelle auto elettriche eccetera quindi è questo che porta un insomma mette un po' in crisi l'opposizione degli Stati Uniti perché naturalmente la moneta è espressione di un'egemonia sappiamo che poi la moneta sopravvive al declino della potenza per un certo numero di anni si pensi che la Gran Bretagna cioè la sterlina è rimasta la moneta di riferimento fino a sostanzialmente la fine della seconda guerra mondiale ma la Gran Bretagna va smesso già dalla prima guerra mondiale di essere la principale potenza al mondo quindi c'è un sistema di convenzioni istituzioni internazionali che si forma un modo di agire consolidato e che è quello che è veramente difficile da scardinare cioè non è tanto il dollaro in sé e quanto l'allaborazione di alternative che è particolarmente problematico e infatti se gli Stati Uniti probabilmente avessero evitato una certa deriva sarebbero riusciti a mantenersi a mantenere la propria posizione molto più sicura invece cosa hanno fatto? A partire dagli anni 90 quando inebriati dal crollo dell'Unione Sovietica dalla fine della guerra fredda ritennero che potevano fare quello che sostanzialmente volevano senza impunemente e quindi cosa hanno fatto? Hanno militarizzato il dollaro hanno trasformato il dollaro in uno strumento di politica estera quindi con la semplice minaccia di estromissione dai circuiti che garantiscono la circolazione del dollaro come SWIFT per esempio che è un sistema di pagamenti trasnazionale gli ordini di pagamento in trasnazionale che è il più comune al mondo la semplice minaccia comportava per un paese per un istituto di credito per un'azienda la morte dal punto di vista commerciale e questo provocava un rapido riallinamento o un mutamento in materia di politica estera in un'ottica di breve periodo ma qua gli Stati Uniti hanno cominciato ad abusarne strutturalmente al punto tale che adesso sono migliaia decine di migliaia le istituzioni statali o private che sono sottoposte a sanzioni statunitensi le quali prima o poi cioè quando tu sanzioni magari che so l'Iraq o il Venezuela eviti di riconsegnare al Venezuela le sue riserve aure confischi le riserve della banca centrale afghana stai facendo un danno ma il resto del mondo può anche relativamente fregarsene quando tu confischi 300 e passa miliardi di dollari di riserve di valuta presata che la banca centrale russa deteneva presso istituzioni finanziarie straniere occidentali tu stai cambiando le regole del gioco e lo stai facendo ufficialmente questo cosa comporta? comporta che i cinesi gli arabi gli africani i sudamericani che avevano magari investito pesantemente a New York o a Londra si rendono conto che investire in realtà in queste istituzioni non è poi così sicuro perché l'indomani oggi era il turno della Russia domani sarebbe potuto essere il loro turno a essere sanzionati coloro avessero preso delle decisioni sgradite a Washington quindi cosa fanno? per esempio si sganciano dalla piazza finanziaria di Londra e migrano in massa verso Dubai riducono per esempio fanno come i cinesi riducono costantemente le detenzioni di titoli di Stato statunitensi in maniera graduale ma costante e quindi sulla scia di questo processo noi vediamo che c'è una vera e propria crisi per gli Stati Uniti nel 2008-2009 avevano circa il 53-54% del proprio debito coperto da acquisti esteri cioè quindi loro emettevano titoli di Stato che venivano acquistati in larga parte oltre il 50% dalle banche centrali straniere questo cosa comporta che gli stranieri ti finanziano il consumo interno perché tu non sei in grado avendo deindustrializzato non sei in grado di soddisfare con la produzione autottona il tuo fabbisogno interno e quindi questo si traduce in squilibri della bilancia dei pagamenti della posizione finanziaria netta e della bilancia commerciale quando le banche centrali e questo cosa comporta comporta che tu ti indebiti verso l'estero ma indebitando ti puoi sempre restituire dollari che non emettono alcuno sforzo per essere per essere stampati come dicevo prima e per di più se li invia all'estero non produci inflazione sul piano interno esporti inflazione chiaramente ma se l'appetibilità dei tuoi titoli di Stato comincia a venire meno se la disponibilità delle banche centrali straniere a finanziare il debito statunitense comincia a diminuire ecco che il problema si pone perché se la Cina non acquista più titoli di Stato statunitensi se un numero crescente di banche centrali straniere cerca soluzioni alternative ne dico una l'oro l'hanno fatto letteralmente incetta di oro le banche centrali straniere quando le banche centrali fanno incetta di oro significa che hanno ben poca fiducia l'oro è un bene rifugio di cui che viene acquistato in massa quando nelle fasi diciamo di critiche quando le banche centrali fanno incetta di oro significa che hanno poca fiducia nei canali tradizionali e quindi noi cosa vediamo vediamo che gli Stati Uniti hanno una diciamo un volume di titoli di Stato venduti all'estero che è sostanzialmente stagnante da un paio da qualche anno a questa parte cioè dal 2008 al 2023 era diminuito dal 53% al 36-37 quindi diminuito nonostante nel frattempo i tassi di interesse fossero saliti quando la Federal Reserve alza i tassi di interesse cosa succede? succede che il prezzo dei titoli di Stato si riduce e la loro redditività quindi l'interesse il margine di remunerazione per gli acquirenti sale questo li rende particolarmente appetibili costano di meno e rendono di più naturalmente questo poi si traduce in una spesa per interessi enorme per gli Stati Uniti abbiamo visto che è cresciuto di 500 miliardi di dollari il deficit di bilancio statunitense in arco di 21 giorni 500 miliardi di dollari un quarto del debito pubblico italiano in 21 giorni quindi insomma vediamo che la situazione si fa critica ma questo cosa comporta? i statuti alzano i tassi di interesse per rendere maggiormente appetibili nuovamente appetibili i loro titoli di Stato ma la disponibilità del resto del mondo ad acquistarli non aumenta proporzionalmente noi vediamo che le detenzioni sono sostanzialmente stagnanti a fronte di emissioni che sono aumentate per 4-5-6 volte dal 2008 a oggi e quindi e poi soprattutto la quota che è comprata dalle banche centrali straniere va costantemente diminuendo mentre aumenta quella e questo significativo degli investitori istituzionali chi sono? sono i grandi fondi BlackRock Vanguard State Street eccetera grandi banche che acquistano titoli di Stato proprio per chi adesso rendono parecchio è vantaggioso acquistarli ma nel momento ma questo come dicevo provoca un dissesto dei conti pubblici statunitensi nel momento in cui gli Stati Uniti abbassano i tassi di interesse questi fondi che ragionano in un'ottica meramente economica quindi non è che lo fanno come le banche centrali per tutelare i propri i propri avanzi commerciali mantenere il proprio potere d'acquisto per mantenersi buoni gli Stati Uniti questi devono semplicemente remunerare i loro azionisti punto se i titoli di Stato statunitensi sono redditizi li acquistano volentieri se diventano poco redditizi e magari c'è qualcos'altro che più redditizio li vendono se ne sbarazzano e quindi questo pone un serio problema per gli Stati Uniti ed è in questo solco che si inseriscono i BRICS i BRICS cosa intendono fare? dicono il mondo per come è stato il mondo allo Stato attuale riflette ancora e ancora diciamo ancorato alle decisioni che sono state prese nel 1944 a Bretton Woods ma è molta acqua è passata sotto i ponti e quindi noi non siamo più disposti a sottostare a delle regole che voi avete imposto che vi siete dati sulla base dei rapporti di forza che c'erano allora ma che adesso non ci sono più non è possibile per esempio che la Gran Bretagna e la Francia detengono più diritti di voto in seno al Fondo Monetario Internazionale della Repubblica Popolare Cinese o che la stessa India per esempio non sia inserita non disponga del diritto di veto in sede di Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite cioè queste nazioni cominciano ad avanzare queste richieste Francia Gran Bretagna contate poco contate poco dal punto di vista del PIL dal punto di vista demografico dal punto di vista dei rapporti di forza internazionali non è più il caso che continuate a disporre di questi strumenti viceversa deve crescere il nostro peso i BRIC stanno portando avanti esattamente questo tipo di ragionamento di logica e questo tipo di logica comporta la messa a punto gioco forza di alternative al dollaro che già ci sono ancora in nuce naturalmente abbiamo visto per esempio la Russia la Cina l'Iran mettere a punto dei propri sistemi in Brasile sistemi di pagamento nazionali che poi li hanno collegati tra loro e questo li consente di aggerare lo SWIFT queste nazioni si sono impegnate a ridurre sempre di più il dollaro nelle loro transazioni bilaterali perché io Brasile che devo commerciare con la Russia devo regolare il mio interscambio in dollari e quindi devo passare per il circuito bancario statunitense non lo faccio usiamo direttamente le nostre valute il real brasiliano e il rubro russo cosa ci fa la Russia con il real brasiliano? potrà acquistare merci brasiliane quindi a sua volta il Brasile è incoraggiato a specializzarsi in produzioni che risultino interessanti per paesi come la Russia come la Cina eccetera l'idea che è stata avanzata da qualcuno era addirittura ancora più ardita perché non rifarci a quello che aveva proposto Keynes a Bretton Woods Keynes è stato il grande sconfitto di Bretton Woods perché prevalsi la linea Keynes è un britannico prevalsi la linea statunitense Keynes diceva l'ordine monetario non deve basarsi sulla valuta di un singolo paese deve esserci una valuta sovranazionale che funga da unità di conto che quindi regola gli scambi transnazionali anche in un secondo meccanismo che evitino che alcuni paesi accumulino troppi avanzi commerciali altri troppi deficit cioè deve mirare questo sistema a incoraggiare il riequilibrio delle bilance commerciali questo è molto vantaggioso è anche un sistema che evita di fare riferimento a un singolo paese questi paesi BRICS hanno cominciato rispolverare quest'idea e vedere se c'è se c'è la possibilità di metterla in atto dal mio punto di vista non ci sono ancora assolutamente maturi i tempi per una cosa del genere perché poi i BRICS sono paesi profondamente diversi da loro come peso economico struttura demografica posizione commerciale cultura quindi pensare che Cina Brasile Sudafrica Russia India adesso poi Arabia Saudita Iran Egitto trovi non si costruisca consenso attorno a un'idea così rivoluzionaria i tempi secondo me sono ancora prematuri sono ancora la situazione non è ancora talmente così avanti da poter rendere attuabile una misura di questo genere però sicuramente c'è un consenso generalizzato per far sì che le singole monete nazionali vengano impiegate sempre di più nel commercio con l'interscambio bilaterale e questo comunque riduce il ruolo del dollaro questo è fondamentale e quindi secondo me i BRICS nel prossimo versi parleranno proprio di questo del potenziamento di quei canali alternativi allo SWIFT dell'incremento dell'utilizzo delle proprie valute nazionali a scapito del dollaro questa sarà secondo me la partita a me ha colpito una cosa che tu hai detto prima riferita al modo di ragionare degli Stati Uniti e invece al modo di ragionare dei BRICS che però alla lunga potrebbe rivelarsi vincente mi sembra che gli Stati Uniti ragionino molto sul breve periodo questo è un po' diciamo il quadro che tu hai tracciato per il periodo per esempio che è andato dal 44 al 71 ma anche poi dal 71 avanti con questa nuova fase per cui ammesso e non concesso che appunto oggi i tempi non siano maturi per tutta una serie di ragioni è comunque plausibile che chi persegue appunto nel lungo periodo una strategia alla lunga possa rivelarsi vincente perché noi forse oggi siamo educati al culto del tutto e subito mentre invece magari potrebbe essere che come dire non in questo vertice non in quello dei prossimi dieci anni però alla lunga magari si ottiene il risultato finale e poi avrei anche un'altra questione che mi è venuta ascoltando la tua interessantissima esposizione riferita al discorso del rapporto stretto tra egemonia intesa nel senso naturalmente politico e soprattutto militare e forza anche della moneta ecco nel momento in cui gli Stati Uniti tranne che per i nostri cosiddetti giornalisti questa egemonia la stanno vedendo sempre più scemare per tutta una serie di ragioni anche la vicenda dell'Ucraina credo che sia emblematica in questo senso temo proprio che a questo punto come dire anche tutta questa pressione so che poi devi lasciarci quindi ecco ti sottopongo solo queste due questioni probabilmente potrebbe avere un rapporto col fatto che si insista così tanto su quel fronte no? cioè come dire una volta che risulta platealmente che noi li abbiamo perso anche quella famosa egemonia prende una bella batosta ecco queste sono le due cose questo è fuori di dubbio questo spiega veramente molto cioè il fatto è che lì ha ragione Emanuel Todd è uscito adesso una traduzione del suo libro La De Fede all'Occidente tradotto da Fazzi con la sconfitta dell'Occidente in cui Todd evidenzia proprio questo cioè l'Occidente ha investito così tanto nella sconfitta della Russia ad aver messo a rischio tutte le proprie le proprie asset le proprie risorse perché perché si è cercato di dire al resto del mondo da prima si è usate le sanzioni come dicevo prima in quella maniera così sconclusionata cioè tu quindi abusi del sistema sanzionatorio fai vedere che questo sistema è tutt'altro che neutrale perché non è stato chiesto il permesso a nessuno di imporre queste sanzioni non sono state autorizzate al Consiglio di Sicurezza nelle Nazioni Unite le Nazioni del Sud del Mondo non sono state interpellate in proposito quindi ci sono state imposte queste sanzioni nella convinzione che la Russia sarebbe stata messa in ginocchio perché perché tutte le altre nazioni del mondo avrebbero aderito ovviamente nel momento in cui le impongono gli Stati Uniti e l'Europa come può il resto del mondo non aderire e invece abbiamo visto che non è andata assolutamente così quindi tu hai dimostrato prima di tutto che il sistema non è neutrale il sistema è piegato alla necessità di una potenza e dei suoi vassalli due hai detto questo adesso facciamo vedere a tutti cos'è la nostra potenza di fuoco metteremo in ginocchio un colosso come la Russia non solo questo non accade ma la Russia da un punto di vista economico ottiene delle performance notevoli riconfigura la propria struttura economica e questo è un dato molto importante perché da grande esportatrice di materie prime sta cominciando a porre le basi per invece insomma autocentrarsi mettiamola così è un discorso che dovrebbe essere approfondito più avanti soprattutto fai vedere il resto del mondo che il resto del mondo è stanco dei dictati occidentali perché non solo questi non aderiscono alle sanzioni vediamo un paese come l'India che sembrava andare a bracetto con gli Stati Uniti che moltiplica per 34 volte il volume delle importazioni di petrolio dalla Russia vediamo la Cina che fa sostanzialmente la stessa cosa vediamo la Turchia un paese membro della Nato dal 52 che non aderisce alle sanzioni e che costruisce un gasdotto il Tark Stream che garantisce alla Turchia gas naturale russo a basso costo la Turchia che acquisisce anche sistemi d'arma russi gli S-400 sistemi antiaerei paese membro della Nato ricordiamo vediamo l'Africa dove ci sono una catena di colpi di Stato che culminano con l'asceso al potere di giunte militari assai ben disposte verso Russia e Cina insomma vediamo un mondo che è molto diverso da quello che ci si aspettavano e per di più quello che conta più di tutti è che il resto del mondo vede questo confronto non come un scontro tra la Russia e l'Ucraina ma come uno scontro tra la Russia e la Nato in cui la Russia tiene testa dal punto di vista economico e anche militare la Nato nel suo complesso mette a nudo la incapacità produttiva l'inadeguatezza del sistema industriale di tutto l'Occidente messo insieme e quindi questo cosa provoca? provoca un danno di immagine di credibilità per gli Stati Uniti enorme enorme infatti è sulla scia di quel conflitto che questi processi che erano in luce hanno subito una pesante accelerata io guarda ho il libro di non l'ho ancora avuto occasione di leggerlo perché ne ho altri purtroppo in coda però lo leggerò quanto prima l'unica cosa proporrei una variazione del titolo con tutto il rispetto per l'autore che ha la mia grande estima invece è che la dispatta dell'Occidente io forse ne scriverei un altro intitolato la presunzione dell'Occidente perché penso che molti dei problemi che tu hai descritto siano legati proprio a questa idea di superiorità che si sta dimostrando platealmente destituita di ogni fondamento che rimane soltanto in una certa narrazione infatti chiunque poi provi questa narrazione a contestarla automaticamente viene colpito con etichette censure pari proprio perché non è gradito che come dire qualcuno lo metta troppo in evidenza mettiamola così io non so se vuoi aggiungere qualcos'altro prima che ci salutiamo no dico solo che adesso sarà interessante vedere come si evolverà il conflitto russo-ucraino vediamo che gli Stati Uniti stanno preparandosi per sembra tirare in barca ma questa volta a differenza di quanto successo in Afghanistan secondo me le implicazioni saranno molto molto più complesse stratificate e strategicamente devastanti per gli Stati Uniti ne sono convinto e di riflesso ovviamente anche per noi che siamo diciamo non dico il cortile di casa perché quelle erano le state diciamo le colonie d'oltreoceano d'oltre mare anzi come si diceva un tempo grazie come sempre Giacomo Gaverini vi ricordo naturalmente ancora una volta per approfondire le tematiche del cui abbiamo parlato oggi il suo libro la dedovalizzazione edito da Diarcos e tra l'altro Diarcos io devo dire è un'ottima casa editrice perché pubblica veramente sotto una serie di libri molto molto interessanti e che recano approfondimenti che non troverete certamente né in tv né sui giornali grazie Giacomo grazie a te alla prossima buona serata a tutti e grazie